Ciao a tutti i video lettori del Capoluogo e ben trovati a questo nuovo appuntamento con Grandangolo, la rubrica con la presunzione di parlare di politica, ma non solo, oggi comunque torneremo a parlare di politica anche perché, come ho avuto modo di dire l'ultima volta, credo che sia il tema più attuale del momento. Lo faremo con il Sindaco Biondi, ben trovato Sindaco, grazie soprattutto a te di averlo accettato. Oggi Sindaco, io ti ho invitato non tanto in funzione del tuo ruolo di Sindaco, quanto di esponente, dirigente politico del tuo partito, di Fratelli d'Italia. Perché così, chiaramente in maniera forse un po' breve, perché i tempi sono quelli che sono, ma volevo un attimo confrontarmi con te su quello che sono stati gli ultimi accadimenti e su quello che sarà, secondo la tua visione, cosa potrà accadere da qui a brevissimo rispetto ad alcuni temi. parliamo del governo, partita chiusa, partita chiusa col Parlamento, partita chiusa con i Ministri, voto di fiducia incassato in maniera, devo dire, abbastanza, alcuni parlano di balcanizzazione, queste cose di questo tipo in Parlamento, non capisco cosa vogliono dire, però in maniera molto chiara e netta. Adesso arriviamo per esempio però al collo di bottiglia dei sottosegretari, che sarà un'altra partita che potrebbe infastidire qualcuno, deludere qualcun altro, ma non è tutto questo che ti voglio chiedere, io ti chiedo, in questa partita, da quello che sei tu, l'Abruzzo può aspettarsi qualcosa e se sì cosa? Intanto, riparto dalla premessa, un moto chiaro, una fiducia chiara, uno schieramento chiaro, come non accadeva da troppo tempo, perché siamo stati abituati negli ultimi 11 anni, cioè dalla fine del governo Berlusconi, edizione 2008-2011, a alternanze, ad alleanze variabili che hanno evidentemente indebolito la capacità del sistema paese di essere autorevole, nonostante gli sforzi fatti da Mario Draghi, che sicuramente è una personalità forte ed importante del panorama internazionale. Il futuro dell'Abruzzo, io adesso non so se ci saranno delle posizioni di governo riferite ad abruzzesi, io dico una cosa, che l'Abruzzo già si deve sentire forte ed è forte, non soltanto si deve sentire forte, perché ha eletto il Presidente del Consiglio dei Ministri. Ed è inevitabile, al di là delle volontà che esistono da parte della Presidente del Consiglio dell'Esecutivo. Inevitabilmente l'Abruzzo oggi, l'Aquila, è al centro dell'agenda politica nazionale. Non più tardi di poche ore fa abbiamo già fatto la prima riunione del gruppo tecnico di lavoro, per esempio che si deve occupare dei collegamenti ferroviari, che dovrebbero portare quella cura del ferro che tirerebbe fuori dall'isolamento di questa specifica infrastruttura la città dell'Aquila e più in generale le aree interne. È molto positivo che nel nuovo esecutivo ci siano molti Ministri di tutti i partiti politici, che sono buoni amici dell'Aquila e anche molto più modestamente del sottoscritto. Ci sono tanti temi aperti che riguardano il Cratero 2009, ma che riguardano in generale la provincia e le aree interne e quindi potrei citare come Ministri per esempio Lollobrigida sui temi dell'agricoltura, Nordio Giustizia sui temi dei tribunali minori, Raffaele Fitto, la politica di coesione e quindi tutto ciò che riguarda le risorse, la programmazione europea 21-27, Nello Musumeci che è la delega al Sud per continuare ad avere le agevolazioni che hanno portato l'Abruzzo come regione in transizione a beneficiare dei provvedimenti che riguardano invece il meridione d'Italia e moltissimi altri, Anna Maria Bernini all'università per passare Adolfo Urso per lo sviluppo economico, poi amici di lunga data di questa città come Guido Prosetto che è stato anche recentemente da noi sia a giugno sia ultimamente a settembre, insomma ci sono tanti temi che sono nell'agenda politica locale, Andrea Bodi per tutto il tema del servizio civile universale, ricordiamo l'investimento da 65 milioni di Euro fra investimento e spese di funzionamento che riguarderanno l'Aquila, insomma mi sento molto più sicuro oggi a fare il sindaco dell'Aquila rispetto a prima. Sindaco, torniamo al voto di fiducia al governo, come hai anticipato, perché sarebbe stato oggetto della seconda domanda, mi anticipi sempre, fammi capire, dovremmo cominciare a metterci d'accordo un po' sulle domande. Secondo me adesso al di là superato l'aspetto storico del momento legato all'elezione della prima Presidente del Consiglio Donna, cosa che non mi affascina neanche più di tanto, non mi prende perché sono sicuramente posizionato io ideologicamente contro le quote rosa, ma non contro le donne, proprio contro il principio delle quote rosa. Ma al di là di questo, la cosa straordinaria è che finalmente, osservazione che mi ha fatto fare un esponente del PD abruzzese, senza citare chi sia, qualche giorno fa, che sosteneva che in effetti finalmente si torna ad avere dei campi definiti, cioè voto di fiducia ha delineato un centrodestra che abita l'area conservatrice, l'area dei conservatori. Dall'altra parte c'è quest'area progressista, al momento chiaramente un po' divisa, ma che sicuramente si ricompatterà, che ci riconsegna un po' di politica, un po' anche di ideologia, perché io sento parlare spesso di questi attacchi agli atteggiamenti ideologici, gli atteggiamenti ideologici secondo me sono alla base di un qualsiasi dialogo e confronto politico. Quello che ti volevo chiedere, tu da come si è delineato il passaggio sul voto alla fiducia, che cosa pensi che succederà o possa succedere sia nel centrodestra che nel centrosinistra a livello di rapporti tra i vari partner delle rispettive coalizioni? Nel centrodestra deve succedere nulla che non sia successo negli ultimi 28 anni, diciamo da quando è stata la prima esperienza di un centrodestra come lo conosciamo oggi, perché di fatto i partiti sono rimasti più o meno quelli come collocazione, è vero che Fratelli d'Italia c'era all'epoca alleanza nazionale, Fratelli d'Italia è un'altra cosa rispetto all'alleanza nazionale, però comunque è una delle forme dell'evoluzione della destra italiana, ma in realtà il centrodestra esiste così da sempre, tanto è vero che quando ha governato, l'ha fatto sempre, quando è stata premiata agli elettori, ha sempre governato come centrodestra, dopodiché ci sono state le anomalie che naturalmente sono state rappresentate dall'irruzione nella scena politica del Movimento 5 Stelle che ha scompaginato i piani e che non è un partito né di destra né di sinistra, adesso si colloca nell'alveo del centrosinistra, ma è evidente che se il Movimento 5 Stelle dovesse fare un'alleanza strutturata con il PD perderebbe di senso il partito stesso, non è un caso, è fin tanto che è stato al governo con il PD e quindi è stato, si è incardinato nel sistema, ha avuto un crollo verticale, quando si è staccato ha ricominciato a fare il partito di protesta del reddito di cittadinanza, il no agli inceneritori, ha recuperato quello spirito originale, è risalito nei sondaggi, ma è evidente che è un fuoco di paglia, nel senso che il Movimento 5 Stelle non esiste come partito, a differenza dei partiti del centrodestra sicuramente e anche del PD. Quindi che cosa succederà? Quello che sarà interessante capire è come il centrosinistra proverrà a rimettere insieme questi cocci, non il centrosinistra, diciamo meglio, come tutto ciò che è all'opposizione oggi del governo Meloni, che non è propriamente progressista perché insomma Azione e Renzi hanno una collocazione, se glielo si chiede propriamente, diciamo liberal-democratica, utilizziamo un po' di termini novecenteschi, otto novecenteschi che ci piacciono, come ci piacciono i partiti strutturati, almeno a noi due. E il Movimento 5 Stelle non si definisce tanto, basta vedere come ha girovagato per provare la sua collocazione in Europa, che è lì dove invece è un po' più definito lo scacchiere politico, quindi secondo me non vale il ritornello del PD che comunque c'è un'opposizione che se la metti tutti insieme può sopravvanzare chi oggi è maggioranza, perché semplicemente rimettendo insieme quei pezzi, ammesso che si possano mettere in sé, inevitabilmente perderebbero la ragione sociale sia il terzo polo sia il Movimento 5 Stelle. Però anche se io credo, questo è la mia idea, che in politica l'avversario serva, a questo punto io penso che questa che io continuo a definire area progressista, non tanto per temi o per principi, quanto per collocazione e autodeterminazione, dovrà trovare una sintesi sicuramente, credo che sarà un bene se lo farà anche per il Paese, perché un'opposizione coesa e compatta serve e alle funzioni di controllo molto generale, ma in realtà serve a rafforzare l'altra coalizione, se non vogliamo stabilità dobbiamo avere due, secondo me due… Sono assolutamente d'accordo, ma il ritorno al bipolarismo sarebbe molto auspicabile, il centrodestra ha fatto la sua parte, fra l'altro anche con la ricomposizione della diaspora dei moderati che si sono messi tutti all'interno di un contenitore, fra l'altro hanno formato il gruppo sia alla Camera sia al Senato, quindi hanno una loro personalità giuridica a livello parlamentare, ma che il centrodestra sia un blocco con delle differenziazioni, altrimenti avremmo un partito unico, non c'è alcun dubbio e che rappresenti in maniera trasversale le categorie, le famiglie, i cittadini. Io mi posso permettere da amante della politica e per certi versi anche da studioso dei riti della politica e delle regole della politica, quello che manca al blocco progressista è esattamente l'anima, in cosa sarebbero progressisti? Sui temi dei diritti mi sembra ben poca roba, se tutto il progressismo si riducesse allo Iussoli o al DDL ZAN, sarebbe ben poca roba, non a caso c'è stato uno scollamento con l'elettorato storicamente di riferimento della sinistra, tanto è vero che i collegi sicuri per il centro-sinistra sono quelli delle ZTL, dei centri delle grandi città lì dove vive gente benestante, di fatto dal punto di vista economico quelli sono i conservatori, quelli che tendono a conservare se stessi, che tendono a conservare la casta di cui fanno parte, i territori non privilegiati sono quelli che hanno votato in massa il centro-destra. Sì, oltretutto a questo io aggiungerei che in effetti tracce di progressismo se ne trovano, io almeno ne trovo pochine e questo mi dispiace perché è considerata la mia provenienza culturale, per quanto limitata, ma comunque culturale, è evidente che è vero sì che i diritti civili come dicevi, possono essere solo un pezzo, debbano essere solo un pezzo, però sono sicuramente a mio modo di dire fondamentali e quindi bene fanno a preoccuparsi. Bisogna vedere a che livello si spingono, perché poi a un certo punto non sono più diritti ma diventa una bandiera che viene sventolata perché nessuno mette in discussione i diritti in questa nazione. Posso dire una cosa, la legge, uno dei temi che è stato più dibattuto, lo Iussoli, Iuscole, su cui c'è anche una cattiva informazione, non chi la fa, chi la riceve. Sembra che un ragazzino, una ragazzina nata in Italia e non avente ancora lo status di cittadino italiano è come se non avesse tutti i diritti, non è così. Noi abbiamo una legge sulla cittadinanza che fra l'altro risale al 1992, quindi in un periodo assolutamente moderato dal punto di vista dell'approccio. A mio modo di dire è anche leggermente migliore, però è un'idea mia. Questa è un'altra valutazione, un'altra trasmissione questa, che è assolutamente all'avanguardia, non è un caso che da 30 anni è una legge che regge benissimo, è una di quelle leggi che reggono bene al passare degli anni, nonostante l'evoluzione della società. Credo che ci sia un po' una manfrina politica dietro queste cose, quasi a doversi dare anche in quel caso una ragione sociale, non potendo più garantire i diritti dei lavoratori, perché certamente non sono state fatte politiche in favore dei lavoratori, non potendo garantire i diritti dei più fragili, degli ultimi, non potendo garantire più i diritti di un certo tipo di pantheon di riferimento elettorale che aveva il centrosinistra, si è arrampicata sul pennone del DDL ZAN, dello Iussoli nelle sue varie declinazioni, snaturando di fatto, perché chi è che non si occupa, chi è che non ha problemi di approccio al fenomeno immigrazione, che è sicuramente un fenomeno complesso e problematico, non ce lo possiamo negare, esistono interi quartieri di città importanti che ormai sono assolutamente fuori controllo a causa dell'immigrazione, incontrollate dell'immigrazione clandestina, chi non vive a ridosso di quei quartieri, chi non vive in quei quartieri, chi vive in centro storico, chi vive nella zona ZATL, perché lì non ci arrivano, perché lì non li vogliono e quindi c'è questa classe di pensiero che dice sì all'immigrazione, facciamoli entrare tutti, tanto loro non ci si devono confrontare, tanti loro figli non vanno nelle scuole dove ci sono problemi di apprendimento, i loro figli non frequentano campi di calcetto dove intorno c'è lo spaccio o la prostituzione. Cicinale, ci hai dato la scuola e su questo poi ne parleremo anche un'altra volta, perché sul Corriere della Sera di oggi c'è un bellissimo articolo, mi avevo di vedere, di Ernesto Galli della Loggia, riguardo la polemica sul merito nella scuola, adesso non lo affrontiamo perché sarebbe veramente lunga, perché io un'altra… Dice una cosa esatta Ernesto Galli della Loggia, ecco perché io dico quella sinistra, dice non riconoscere il valore del merito, non va a detrimento di coloro che hanno i soldi che possono fare master, dottorati… E se lo sbrigano dopo… Ma va a condannare quelli che non hanno le risorse economiche, cioè i meritevoli che non hanno le risorse economiche, è la palissiano quello dice Ernesto Galli della Loggia ed è sorprendente che debba essere ribadito. No, no, infatti, comunque passiamo oltre, io volevo con te affrontare velocissimamente, guarda in due flash, telegraficamente, parliamo di simboli, parliamo di scelte e indirizzi simbolici e vado al punto, ieri sempre all'interno del voto di fiducia al Senato c'è stato il passaggio della Presidente Meloni sulla questione contante, si sono scatenate grandi polemiche, vorrei sapere da te cosa ne pensi, facendo una premessa, la faccio io una premessa, che secondo me è sbagliato proprio il tipo di comunicazione, non tanto da parte della Meloni, ma il come viene percepito, si percepisce la circolazione del contante associandola, forse anche giustamente, a un eccessivo, a un grande vantaggio per l'evasione fiscale, ma in modo di vedere l'evasione fiscale va combattuta in altro modo e soprattutto io non riesco a concepire, non so cosa ne pensi tu, il principio in base al quale ogni incapacità da parte di uno Stato di provvedere a risolvere un problema debba passare attraverso la limitazione di una libertà, per capirci, chiudiamo le banche e evitiamo le rapine, tu come l'hai percepita? Penso fra l'altro la Meloni ha fatto un giochino che mi ha ricordato una cosa che fece tanti anni fa Beppe Nicolai, era un politico del movimento sociale, un intellettuale assolutamente straordinario, esponente della sinistra del movimento sociale che a un comitato centrale fece approvare un documento che era stato approvato al comitato centrale del partito comunista, lo svelò dopo e così la Meloni ha fatto l'affermazione, dice l'innalzamento del tetto del contante non ha alcun collegamento con l'agevolazione dell'economia sommersa a nero, dell'economia in nero, irregolare e alle proteste ha detto guarda che questo l'ha detto certo, però io andavo oltre. Dopodiché io credo, la penso come te, l'evasione fiscale oggi non è fatta da quelli che vanno a ritirare 3 mila euro in banca e pagano il dentista invece che con la fattura, facciamo al contrario, consentiamo questa proposta, consentiamo alle famiglie, ai cittadini, alle imprese di scalare dalle tasse tutto ciò che sono le spese che si sostengono, ma di qualsiasi natura, cioè se io acquisto una macchina più grande perché magari ho fatto il terzo figlio, quello non può essere considerato un lusso, se io compro le scatte, ma anche se comprassi dei beni voluttuari, diciamo così, io voglio comprare un cartone di champagne, comunque quel cartone di champagne è stato prodotto da qualcuno che ci ha lavorato, che ha fatto il confezionamento delle cose, quindi voglio dire, e io me lo scalcolo dall'età, tassiamo solamente la ricchezza reale, se tassassimo solamente la ricchezza reale… Tu sei un perfetto socialista, secondo me hai sbagliato posizionamento… Lascia perdere le definizioni, gli ismi e gli isti e gli ista, lasciamole da parte… Fammi fare un po' l'estagico, dai, però penso questo, credo che sia un'economia più sana, cioè se io posso, io cittadino, non Pierluigi Biondi che se lo può permettere, ma il cittadino comune che deve far fare la visita agli occhi al proprio figlio o ai denti e il professionista diciamo illecitamente dice con la fattura o senza, se quello se la può scaricare, per tutti dice tu la fattura me la fa e si calmierebbero anche i prezzi, se tu dici, purtroppo le famiglie campano con poco e anche le attività commerciali campano con pochissimo. E concludo, ti stoppo scusami signor, dicendo a quel punto mi puoi tassare anche del 90%, io sono assolutamente d'accordo, un ultimo passaggio rapidissimo perché facciamo un passo indietro e torniamo alla questione della Presidente del Consiglio, in un pezzo, in un'intervista che hai rilasciato alla nostra giornalista Cristin Santucci, ieri o l'altro ieri adesso non ricordo, parlando di questo evento epocale io ho colto una frase tua che ti cito, la parità non è un obiettivo da raggiungere, la parità è. Che cosa vuoi dire precisamente? Voglio dire che bisogna mettere, esattamente come la questione del merito, bisogna mettere tutti nelle condizioni di partenza alla pari, dopodiché chi ha valore, chi ha merito, chi ha lo stigma, la parità non solo se la prende, come ha detto la Meloni, ha detto alla Serracchiani le sembra che io stia un passo dietro agli uomini, lei oggi è davanti a tutti gli uomini d'Italia, fatto salvo il Presidente della Repubblica naturalmente, quella è una parità che non si fa. E lo risolveremo con la prossima Presidente. La parità si fa consentendo alle famiglie, alle donne per esempio, di non essere blindate dentro casa quando fanno figli. Assolutamente, con la politica, con la politica. Sindaco, io mi scuso, ti devo stoppare qua, ci dobbiamo stoppare qui perché anch'io ho rubato del tempo, siamo veramente… Lasciamo il sospeso così ci dobbiamo rivedere. Ci dovremmo rivedere assolutamente, anzi io vorrei quasi proporti di istituzionalizzare una volta al mese argomenti che riguardino la nostra città. Grazie ancora Sindaco. Devi mettere d'accordo col tuo collega Carlo Gizzi che mi sequestra anche lui una volta al mese. Allora ti lascerò a Carlo Gizzi. No, facciamo tutto il problema. Grazie ancora. Grazie. Arrivederci a presto, grazie a tutti quanti voi videolettori e a un prossimo appuntamento con Grandangolo.